Nuovi progetti per aumentare la sicurezza nella città della fortuna sono in arrivo a partire già dal prossimo anno. Dopo l'installazione di quattro telecamere alla stazione ferroviaria di Fano, risorse permettendo ne verranno aggiunte altre in posti diversi che serviranno non solo contro i furbetti della strada, ma potranno essere d'aiuto alle forze dell'ordine per le indagini investigative. A ribadirlo, in occasione del 152esimo anniversario della fondazione del Corpo dei Vigili Urbani è stato il sindaco Massimo Seri che al suo insediamento a maggio dello scorso anno aveva deciso di tenere per sé la delega alla Polizia Municipale. C'è un programma che concordiamo anche con la Prefettura, fra l'altro la settimana prossima abbiamo un incontro proprio per questo. Voglio anche cogliere questa occasione per ringraziare tutto il Corpo di Polizia Municipale per il lavoro che hanno svolto e per la sensibilità consapevole anche delle difficoltà del momento, sono sotto organico, ma soprattutto anche un momento difficile sul piano anche sociale e per cui svolgere un ruolo come questo è complicato. È stato infatti un bilancio positivo ma ricco di difficoltà, quello illustrato oggi dai vertici della Polizia Municipale di Fano. Hanno dovuto operare infatti con sette persone in meno rispetto allo scorso anno. Per questo il primo cittadino sta pensando già dal 2017 di aumentare l'organico con nuove assunzioni. Il compito della Polizia Municipale è anche quello di essere vicino al cittadino, di fare una serie di servizi a disposizione del cittadino e se pensiamo all'estate, al periodo dove siamo città turistica, anche certe funzioni, certi servizi aumentano. Per cui avere anche maggiore persone che possono svolgere questa funzione è importante. Quindi anche per questo voglio rinnovare questo ringraziamento perché se lo meritano, anche per alcune volte troppe critiche ingenerose perché poi se ripensiamo anche le polemiche di quest'estate e andiamo a verificare i numeri ci accorgiamo che non corrispondevano esattamente alla realtà.